Buongiorno, per la campagna Maffaense ci troviamo oggi nel panificio Vertaccini, presente nel tessuto commerciale Centino fin dal 1906 e parleremo della sua storia con la signora Patrizia. Buongiorno, questo è un antico forno che nasce dalle cenere di un antico convento francescano del Novecento, grazie a chi ha avuto questa geniali idea di rimetterci su questo forno, ancora adesso siamo nel 2021, vedo che funziona ancora e è una bella cosa nel centro di Faenza. Visto che si troviamo in un panificio, secondo lei qual è la ricetta per attività che veramente superano il centenario come questa, di trovare un equilibrio tra la tradizione come si può vedere con questo forno e la modernità che incalza? Allora abbiamo notato, beh a parte il fatto i ragazzi, le signore, i signori, adesso sono molto incentrati con queste Satispay, questi Bancomat, quindi cerchi anche te di venirne un pochino fuori mettendo su queste cose e invece per quanto riguarda il pane, le selezioni delle farine, i ragazzi piacciono molto le farine lavorate, quindi è cambiato anche il gusto della gente e noi cerchiamo di andare incontro a queste cose.